Potresti spiegarci come funzionano gli accertamenti di donità linguistica e informatica? Per tutti i corsi di laurea delle professioni sanitarie è richiesta la conoscenza della lingua inglese livello B1 e delle competenze di informatica di base. Se siete già in possesso di una o entrambe delle certificazioni riconosciute dell'Ateneo, non dovrete far altro che portarle ad inizio anno e vi verranno caricati sul libretto ICFU, ovvero i crediti formativi universitari relativi alle donità di informatica, di inglese o anche di entrambe. Se non siete in possesso della certificazione non preoccupatevi perché non dovete svolgere un esame per vostro conto, ma l'Ateneo mette a disposizione dei corsi e delle certificazioni in sede dove appunto dovrete sostenere l'esame o di informatica o di inglese o entrambi per accertare le vostre conoscenze. Di seguito vi lascio il link relativo del Dipartimento di Medicina nei quali troverete tutti i dettagli e le informazioni a riguardo per quanto riguarda il corso, l'esame in sede o le certificazioni che vengono riconosciute dal nostro Ateneo.